Ciao qui è Joe di Soluzione Attrazione e nel video di oggi rispondo a due delle vostre domande che ci sono arrivate. La domanda è questa. Anche se le donne dicono che quel tipo di uomo non è il loro tipo a livello fisico, può darsi che col tempo cambino idea frequentando quel ragazzo? Ho detto da qualche parte che col tempo le donne trovano più bello il proprio uomo. Sì e no. Ecco come funzionano le cose. Se tu ti guardi in giro potresti vedere che ci sono donne che stanno con uomini, che almeno secondo quella che hai la tua percezione, percepisci come più brutti di te e quindi tu potresti chiederti come mai la vita tramite approccio a freddo è così dura. Il motivo di questo fenomeno, cioè che ragazze più belle escono con ragazzi potenzialmente più brutti, è dato dal fatto che questi ragazzi stanno attorno, per così dire, cioè fanno parte di quello che è il circolo sociale, il gruppo sociale, poco importa, e quindi hanno maggior tempo rispetto ad un approccio a freddo per creare fiducia con queste ragazze. E dal punto di vista della ragazza la fiducia è una parte importante nell'equazione. Questo ovviamente non significa che all'inizio la donna in questione, del nostro esempio, considerasse l'uomo in questione uno scarafaggio, ma in ogni caso anche non considerandolo, l'uomo ideale, diciamo così, c'è un livello di attrazione minimo che, abbinato a fiducia e molto spesso a molto, molto, molto lavoro, fa sì che alla fine queste due persone si mettano insieme. Quindi non è che la ragazza cambia idea, ma in una situazione di questo tipo, e con tanto, tanto lavoro, spesso l'uomo in questione trasforma un forse in un debole sì e poi in un sì. Riguardo al discorso di essere percepito come più bello, che tu menzioni, non funziona così, non si tratta di bellezza, ma si tratta di valore. Se tu all'interno di quella che è la reazione aumenti quello che è il tuo valore, agli occhi della ragazza verrai percepito come più attraente. Di contro, se diminuisci quello che è il tuo valore, verrai percepito come meno attraente. Accadrà il contrario. Per quanto riguarda invece quella che è l'attrazione fisica, questa è destinata a scemare, sia per l'uomo che per la donna. Funziona così per tutti, in tutte le reazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E proprio per questo è importante che tu sappia fondamentalmente mitigare questo problema dell'attrazione fisica che scende e che è naturale e su quale non puoi lavorare, massimizzando, per così dire, quella che è la vostra vita sessuale. Ovviamente farei tanti ingredienti che entrano in una reazione, che entrano in gioco. Quindi se ti interessa sapere come non imbatterti, per così dire, in quella che è la routine dal punto di vista sessuale, capita in molte relazioni, ti lascio il link a un altro mio sito in descrizione, www.diosesso.net. Stop! Non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.